Ciao a tutti i criptomalati, ben trovati qui da Fabrizio Ferri, il vostro analista. Intanto grazie perché siamo arrivati a una cifra davvero importante sul canale e vi ringrazio. Vi ricordo, per chi non lo avessi ancora fatto, di iscriversi e lasciare un bel mi piace, cosa molto importante per far sì che anche altri possano vedere queste analisi. Allora, come al solito, non sono consigli finanziari, andiamo a vedere in base a quello che sta dimostrando il mercato, cosa sta succedendo su Bitcoin e a cosa stare attenti nelle prossime giornate. Questa è un'analisi su base settimanale, perciò il grafico è sul weekly. Vediamo un po' quello che è successo in queste ultime giornate. Purtroppo è un mercato che ha rispettato il trend di breve periodo, quindi un mercato ribassista e anche di medio. Sul lungo periodo, onestamente, non è ancora scalfita la tendenza a rialzo, però iniziano ad esserci delle dimostrazioni di debolezza non trascurabili, perciò occhi ben aperti. Ma vi zoom un attimo qua alla dinamica che si è sviluppata nelle ultime settimane e praticamente bisogna essere molto attenti al supporto che ha rotto in questa settimana appena conclusa. Sì, questa candela qua è la candela di chiusura dell'8 di maggio e praticamente è andata a rompere un supporto che reputavo molto interessante. Addirittura toccando e violando anche i 34,6 e oggi siamo arrivati ai 32,9 e 18. Diciamo che l'obiettivo 30.000 non è così distante. Io settimana scorsa discutevo il fatto che si potesse arrivare comodamente a 34, addirittura abbiamo rotti e praticamente ecco, c'è poco da stare ad aggiungere. Quando su base giornaliera avevo indicato una possibile ripresa era perché c'è stata una buona concomitanza con anche i mercati americani che sembravano volersi riprendere. Quella ripresa è durata praticamente poche ore perché poi il bitcoin è sceso, l'hasdak è sceso e tutto quello che doveva essere praticamente in, come potremmo dire, in coesione, in chiave positiva invece poi si è dimostrato molto negativo e di conseguenza eccoci qua a vedere un mercato che è tutt'altro che rialzista. Però ci tengo a dirlo. Punto primo, non anticipiamo il mercato. Punto secondo, queste fasi per chi invece fa l'holder e magari tende ad accumulare bitcoin possono risultare in dei momenti molto interessanti perché ovviamente anziché acquistare bitcoin a 70.000 diventa più vantaggioso per quella che è la fase attuale, un acquisto a 33-34.000 cosa che però come sempre bisogna tenere sotto controllo è la gestione del capitale, perciò il fatto che scenda non vuol dire accumuliamo con tutti i soldi che abbiamo ma cerchiamo di fare delle operazioni che abbiano senso e logica. Comunque mercato ancora ribasista. Vediamoci la sorella di bitcoin o il fratello, chiamatelo un po' come volete eccolo qua, Ethereum rompe una trendline molto importante molto importante e con la chiave di oggi di lettura tra i dati con questi volumi che mi sporcano il grafico abbiamo evidente tendenza ribasista che potrebbe far precipitare comodo comodo Ethereum in zona 2170. è una quota che per me è una quota di rilevanza incredibile perché su questa quota qui poi Ethereum ha ripreso un piccolo rimbalzo ma il rimbalzo non ha portato la cripto a riprendere il volo siamo qua, indirittura d'arrivo non manca molto dai 2380 ai 270 comunque cifra molto vicina. Andiamo a vedere poi una cripto che invece ha fatto un po' il mercato a sé nelle ultime settimane che è GMT quindi voglio sempre dargli un'occhiata GMT che è arrivata a valere 4.16 oggi finalmente, dico finalmente perché è comunque palese che il trend sia ancora rialzista però finalmente va a ritrovare un equilibrio che era da un po' di tempo che mancava. questo tipo di salite è vero entusiasmanti però è anche vero che quando poi il mercato inverte lo fa con la stessa identica determinazione e forza che ha dimostrato in una prima fase di spinta quindi occhio al metaverso occhio a queste cripto che poi sparano forte perché dalla forza di salita purtroppo si sviluppa anche una evidente ed ugual forza di discesa. Andiamo a vederci BNB perché giustamente non possiamo adascurare la cripto del più exchange che c'è al mondo eccolo qua diciamo la scorsa, un paio di settimane fa sembrava un po' titubante la fase ribassista sembrava che addirittura potessero reggere dei supporti importanti tra i 395 e i 380 dollari e invece questi supporti ragazzi non hanno retto e oggi siamo a 330 dollari personalmente cosa sto facendo io con i miei BNB non ne ho tantissime, non sono un accumulatore di BNB però ne ho messi staking e quindi ecco un minimo andiamo a mediare in attesa di tempi migliori questo è un po' il discorso poi andiamo a vedere Micheluna che sembra sempre la cripto più importante del momento sembra sempre che possa tornare a fare nuovi massimi però è anche vero che stiamo una volta tenuti i 76 su base trading parliamo quando io indico dei livelli su un grafico giornaliero cosa importante ve lo dico e ve lo dirò sempre per chi non avesse questi concetti basi vi consiglio di andarvi a vedere il corso su fabriziofari.it gratuito andatevelo a vedere c'è il link in descrizione andate sul sito entrate nel corso vi iscrivete, vi scaricate anche l'ebook gratuito ve lo guardate quante volte vi pare perché cosa fondamentale è ricordarsi che il time frame di riferimento è quello che poi dà vita a tutta la strategia quindi se io lavoro sul settimanale ho dei livelli, delle zone, dei supporti, delle resistenze assolutamente, obbligatoriamente anzi ricavabili e calcolabili dal time frame settimanale se invece lavoro su un daily ovviamente la cosa cambia quindi per quanto riguarda la fase settimanale al momento attuale abbiamo ancora un mercato rialzista sul lungo periodo il breve periodo dobbiamo per forza al momento inserirlo in una fase di incertezza più tendente a ribasso e mi sembra chiaro quindi occhi aperti anche su Duma perché ha fatto tanto però sta anche adesso ritornando a dei livelli un po' più gestibili e umani rispetto ai 100 toccati poche settimane fa detto questo chiudo il video con l'ultima cripto di oggi ovvero Solana Solana che per certi versi sempre visto dei rimbalzi importanti comunque sempre mantenuto un trend molto interessante oggi torna a 71 dollari ci fa che non si vedea da tempi in memory perché praticamente parliamo del 2021 di agosto 2021 poi la Solana è andata su proprio come se fosse una frusta e non c'è più torata su queste zone qua e vediamo un po' se troverà il supporto naturale sul supportone quello magnifico D24 questo un po' più ambizioso piuttosto che il supportone dei 50 47-50 dollari vediamo un attimo come svilupperà il trend comunque ragazzi rimane ribassista e questo è E4 detto ciò io vi aspetto per l'appunto sui corsi disponibili su fabriziofari.it presto anche tanti altri contenuti con delle davvero delle ottime specifiche uscirà tra poco anche il mio primo libro di trading quindi mi raccomando state connessi che sarà molto interessante vicino alla mia operatività semplicità efficienza per quanto riguarda il metodo perché cosa importante è avere un metodo che possa essere replicabile ovviamente poi il resto lo scoprirete nel corso delle settimane vi ringrazio alla prossima e vi aspetto su tutti i canali social eccoli qua abbiamo ovviamente il gruppo Telegram abbiamo la pagina Instagram il profilo e il gruppo di Facebook insomma tutto quello quello che serve ovviamente poi per chi invece fosse amante solo delle videoanalisi iscrivetevi a Malati per le cripto qui su YouTube ciao a tutti e buon pomeriggio